Per il secondo anno di fila Festa Ambiente Sud apre a Rignano. Siamo partiti da qui, dal museo di Grotta Paglici. Grotta Paglici è a noi comunità di Rignano tanto cara, perché ne riconosciamo il potenziale, e vorremmo che lo conoscessero anche al di fuori di questo territorio. Non abbiamo il mare, ma abbiamo tante altre bellezze. E Grotta Paglici, se la studiano in tutto il mondo, un motivo ci sarà. Grazie a tutti.